C'è bisogno di questi giochi con un po' di dignità, con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un soldo, un fallo con la palla lì, facciamo a cacciotti almeno! Voi sapete che cazzo avete dentro? Quale l'expressiva? No, ma ha ragione, a vedere quella nazionale, con giocatori che giocano nell'NBA americana, cioè vedere dei cadaveri che camminano, dei fantasmi che camminano in campo, senza mordente, senza agonismo. C'era mordente, uno che si chiama l'agonistico è con mordente. C'era mordente, però voglio dire, a livello agonistico proprio, tutti leziosi, ma adesso, secondo me io al posto di... A me piace, quando lo sport assume questa dimensione, vediamo uno che si incazza, io sono contento. Cioè un allenatore del genere che col Siena sta dominando da due o tre anni il basket italiano, cioè vedere quei cadaveri in campo è normale che poi ti viene da dentro quella reazione. Per cui, bravo Pianeggiani, perché secondo me lasciassi la nazionale se ritornassi a Siena, perché così non si può giocare. Abbiamo perso anche con Israele l'ultima partita. Sì, ma con squadre che non contano niente nel panorama del basket. Grazie, volevo, c'è una ricolliglia, pronto? Ciao Dante da Barri, saluto il siena. Ciao Dante. Ciao Dante. Allora, signor Gaudio, volevo fare subito una domanda a lei. A me? Sì, come no? A lei, lei è Gaudio. Scusa, stavo distratto. Ok. Per quanto riguarda Caputo, ma può giocare in Serie B, secondo lei, punto, primo, secondo. Enzo, io avrei un motivetto per il gol del Barri, Ornella Vanoni, tristezza. Cerai? Sì, tristezza Ornella Vanoni. Beh, cantala, scusa, fammi sentire. Tristezza, per favore, va via. Così schiacciamo un po' di... Facciamo sto giochino. Facciamo interviene alla gente in diretta e canta la canzone. A proposito di canzoni. Sì, Gaudio, infine, per quanto riguarda Forestieri, ma non è troppo solista, secondo lei? Deve svezzarlo ancora, Torrente. Però per quanto riguarda Caputo, non dimentichiamoci che anche l'anno scorso Conte lo ha preferito a Mastronunzio. Cioè, è un giocatore che la porta, la vede, i suoi 8, 9, 10 gol a stagione li segna. Purtroppo non è ancora entrato nei meccanismi, diciamo così. E tu cantai anche tu la canzoncina? Senti, io sono un nostalgico del regno delle due Sicilie. Per cui, cioè, il mio sogno è quello di poter cantare, anche in contraposizione al movimento musicale di Roberto Maffei, Brigante Semore. Perché è una canzone, c'è un inno che poi ha lanciato e ha fatto conoscere proprio dagli schemi di Telebari, Chan a Chan, il ristorante Chan a Chan, quando ha fatto la settimana sui Briganti. Perché io ritengo... Fammi sentire questa canzone. Allora, non vorrei, perché io mi ero preparato a portare... Breve, 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 dai. Come il nostro amico, che non ha cantato molto, ha cantato proprio 10 secondi. Allora, iniziamo con l'ultima stru. Om se nasce, Brigante Semore, ma fino all'ultima vimma sparare. Tu le immagini allo stadio, questa. E se morimma, menate nuciore, è una preghiera per sta libertà. Sentiamo un'altra canzoncina al telefono. Pronto? Pronto? Sì. Sono Vito. Chi è? Sono Vito. Ah, Vito, scusate. Volevo dire delle cose. Sono un tifoso del Bari da quando si trovava in TRC. Per il fatto del ragazzo che ha detto prima che c'era una capienza molto scarsa, c'è da sottolineare in grande che il nostro Presidente non si sostiene di abbassare i prezzi. Vi faccio l'esempio. Il rinnovo dell'abbonamento costa 123 euro, 123, in tribuna. Nell'Udinese, in curva 120 euro. Eh, in curva. Il rinnovo, 150 l'abbonamento. Siamo avvenuti. All'Udinese? Nell'Udinese, squadra che ha giocato Champions League in questi giorni, nonostante sia uscita, davano l'abbonamento a 100 euro in curva. Non so se mi spiego. Quindi, se il nostro Presidente abbassassi i prezzi, specialmente i figlietti, andrebbe più gente. Vito, il motivetto che canteresti, che vorresti ascoltare dopo il gol, qual è? Sicuramente, qualche canzone brasiliana, che tipo, un trignino, quelle canzoni l'ho. Vabbè, vabbè. Comunque, adesso ti volevo dire anche un'altra cosa. Stavamo parlando prima del delegato UEFA dello stadio, giusto? Lì prima ha detto che il Bari ha un problema del, cosa quel buco, giusto? Sì, sì, del telone, no? Lì ha ragione, soltanto che, cioè, secondo me, può avere il delegato, perché se l'ha vista la partita della Roma, quella col Bratislava-Roma, avevate visto lo stadio che aveva il buco proprio dietro la curva? Sì, ma lo diceva anche Leonardo, però con un'autorizzazione dalla Prefettura puoi anche andare avanti, insomma, voglio dire, però l'UEFA dice, io non ti do l'ok, però se la Prefettura dice, mi assumo la responsabilità, è successo probabilmente anche a Roma. Grazie Vito per il tuo intervento, proprio 30 secondi dedicati alla vera, perché sono stati presentati, è stato presentato oggi a Bari, presso la provincia, il campionato nazionale Open Classe Surprise, non so se abbiamo delle immagini a supporto, si svolgerà per appunto a Bari dal 14 al 20, anzi dal 14 al 18 settembre prossimi, insomma, è sempre un campionato nazionale e poi sarà bello vedere le nostre vele in mare. Bari Santo Spirito, campionato nazionale Open Classe Surprise, organizzato dall'Associazione Sportiva di Rettantistica Costa del Sole. Siamo addirittura d'arrivo? C'è tanta attività di vele, se potrebbe fare ancora di più, però non è possibile capire come mai a Bari non si riesce a fare un porto turistico, è assurdo, c'è una città di mare che non ha un porto turistico. Apri un bel fronte di discussione enorme. E' un argomento che si ripropone ogni anno, però il comune è fermo, io non capisco, non è che ci voglia tanto per fare un porto turistico, tra l'altro ci sono le condizioni per poterlo fare, meno male che ci sono questi circoli privati che organizzano, che si muovono, perché sennò sarebbe veramente un mortorio Bari. Grazie a Leonardo Gaudio, tutto a sport, grazie anche a voi, a domani con il biancherone. Oggi è stato bravo Leonardo, oggi ho merito la medaglia, la prossima volta porto il tamburello e il cappello perché la vorrei cantare tutta, tre minuti, tutti per te, grazie, a domani, ciao. Ciao.